come stai oggi è migliorata un po la condizione e la tappa di oggi è forse la più adatta le tue caratteristiche no si è stata una settimana dura impegnativa anche la tappa di ieri non è stato facile oggi sulla carta potrebbe essere una buona occasione per noi velocisti anche per la fuga quindi sarà una bella lotta viviane ha fatto soprattutto i nomi il suo gaviria e merlier come i favoriti sei d'accordo aggiunge anche il tuo qualcun altro io sicuramente punto a far bene a questa tappa e chiaramente ci sono anche altri ragazzi che possono puntare alla vittoria però noi siamo siamo motivati a livello fisico stai migliorando sempre di più comunque mi sembra poco alla volta sì chiaramente portare a termine questa corsa per me è molto importante quindi un'ultima occasione oggi domani sarà una cronautra quindi siamo quasi alla fine grazie in bocca al lupo grazie a voi